carissimi ben ritrovati in nostra compagnia in compagnia di rosy che qui al mio fianco se c'è lei al mio fianco vuol dire che io sono ospite di quattro occhi moto e mi trovo a torino in via carlo capelli 100 buongiorno buongiorno sogna hai detto come al solito tutto esatto mega sconti mega promozioni una puntata veramente calda in tutti i sensi perché ci sono degli sconti veramente forti che riguardano un po tutti i brand dal prezzo di listino siamo impazziti dal prezzo di listino sì ci sono degli sconti e delle offerte veramente a partire dal 10 20 30 per cento soprattutto sull'abbigliamento gli accessori e chiaramente non dobbiamo dimenticare le promozioni sulle moto i finanziamenti sono super agevolati come sempre personalizzati studiati su misura che voi allora sai che ti dico partiamo alla grande e ascoltateci molto attentamente ogni brixton è unica come chi la guida insomma un caffè racer dal design sportivo sono tanti modelli che vi presentiamo quest'oggi cominciamo da bx 125 2300 euro bx 125 r a 2500 euro e poi la mitica glenville 250 che spinge forte già dai bassi regimi a 3400 euro e parliamo di voge con motociclette distintive dalle prestazioni elevate dalla tecnologia più avanzata trofeo 300 ac a 3400 euro brivido 500 r a 5500 euro e poi valico 500 ds a 5990 euro e parliamo di zontes un altro marchio con prodotti di altissimo livello tecnologico v310 a 4900 euro r310 a 4200 euro t310 a 4500 euro e x 310 a 4500 euro naturalmente i prezzi sono da intendersi franco concessionario se il mondo bet è la vostra passione aprite bene le orecchie perché da quattro occhi moto gli sconti sono veramente sensazionali alp 4.0 4800 euro alp 200 4200 euro rr 125 due tempi anziché 7.990 euro come sarebbe il di listino 6.800 euro prezzo quattro occhi moto ma anche rr 125 4 tempi motard enduro a 4.200 euro e poi per gli amanti del cinquantino rr 50 attenzione attenzione c'è una promo fantastica che riguarda un bonus di 400 euro da spendere in abbigliamento e accessori possiamo apprezzare anche il mondo onda da quattro occhi moto un brand che lo rappresenta da tempo cb 650 r cb 500 f 125 r in pronta consegna l'africa twin 1100 ma anche pronta consegna per nc 750 x il forza 300 l'SH 125 mod l'SH 300 insomma su tutta la gamma onda sconti e naturalmente tasso zero approfittatene dunque parliamo di scooter e scopriamo il mondo Peugeot partiamo proprio da Django 125 a 2.990 euro naturalmente i prezzi si intendono sempre franco concessionario ve lo ricordo proseguiamo con lo Spitfire 125 a 2.600 euro Tweet 125 a 2.200 euro Belville 125 a 2.700 euro e poi Mitico Metropolis 400 a 9.200 euro parliamo ancora di sconti sconti sensazionali dal prezzo di listino sconti firmati naturalmente quattro occhi moto e scopriamo casa Kimco AK 550 8.690 euro X-Sitting 400 a 5.990 euro Downtown 350 a 4.690 euro X-Town 300 a 3.750 euro come potete vedere sono tanti veramente i modelli a disposizione dei colori che desiderate non possiamo naturalmente escludere dalla lista l'Agility 125 che sta andando per la maggiore a 1.990 euro prezzi folli anche in casa Malaguti RST 125 a 3.700 euro Monte 125 a 3.000 euro Dune 125 a 3.200 euro a disposizione naturalmente sia nella versione Enduro che Motard XTM 125 e XSM 125 a 3.000 euro parliamo di Enduro parliamo di KSR TV 125 X a 2.500 euro per chi acquista il TR 50 Enduro ma anche Super Motard a 2.200 euro vi dico che c'è una bellissima promozione riceverete un buono di 300 euro da spendere come volete nell'abbigliamento proseguiamo parlando di GRS 125 a 2.400 euro ma anche COD 125 a 1.800 euro in casa Piaggio avete l'imbarazzo della scelta vi dico anche che su tutta la gamma c'è una bellissima promozione fino a 1.000 euro e per gli amanti della Lambretta 200 3.500 euro ma anche Madison 300 a 4.300 euro viaggiare sinonimo di sicurezza sinonimo di protezione con caschi naturalmente al top delle migliori marche come potete vedere ce n'è per tutti i gusti integrali jet con sconti che arrivano fino al 50% esatto Sonia si parte dal 10 fino al 50% anche su marchi top di gamma e volevo dirti non solo integrali jet abbiamo quest'anno la novità dell'anno i caschi reversibili anche l'airbag è sinonimo di sicurezza e qui ne troviamo quattro tipologie differenti pensate a partire da 299 euro ma anche la tuta in pelle è sinonimo di sicurezza a partire da 299 euro non mancano naturalmente i giubbotti in pelle con protezioni delle migliori marche a partire da 200 euro e sì è proprio vero a piedi si cammina in macchina si viaggia e in moto si sogna e qui da Quattrocchi Moto si sogna sempre qui si sogna sempre con tantissime emozioni tantissime promozioni tantissime offerte e quindi vi aspettiamo numerosi non mancate grazie Rosy grazie a voi per l'ascolto via Carlo Capelli 100 Torino Quattrocchi Moto alla prossima